Allora benvenuti al Capodanno Barnese 2014, applausi, auguri Balla, l'evento sponsorizzato dal comitato festa con la collaborazione delle... pagina di informazione della festa dei Giti di Balla, giti di barra.it, i giti barresi e Savio Group, 192 edizioni e ringraziamo Sinfonica Barnese e tutti i cantanti che interverranno questa sera, auguri, applausi, auguri a tutti, Giorgio Tranquilli e la sua band. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!